Ciao Andrea, hai cominciato la stagione in Arabia Saudita con una gara un po' complicata, adesso cosa ti aspetti? Sì, la prima gara non è andata molto bene perché abbiamo sbagliato la strategia, però la seconda gara è andata bene, anche le qualifiche le due volte nelle duelle, e stavo contento in generale con la potenza del weekend della macchina e vediamo come va qua, però spero andare forte. Ti trovi bene in questo circuito, ti piace? Abbiamo fatto la proposition due anni fa, penso che sì. Beh, però è un circuito completamente diverso da quello che è l'ambiente di Formula E dove si corre in città, e questo implica un altro tipo di lavoro o è la stessa cosa? No, è la stessa cosa, è sempre un circuito tipo città perché c'è i muri, però l'asfalto è più limpio e per quello è un po' più facile, però c'è difficoltà con l'ultima curva che è molto lunga e che le gomme fanno soffrire, però è una cosa unica anche qua nel stadio con tante gente, è una bella cosa. Grazie. Ora sì, ciao.